ok salve a tutti su rispito ok e bentornati sul mio canale ok è stato un periodo un po difficile in queste ultime due settimane ho avuto tipo la peste e non ho potuto fare più o meno nulla quindi quindi nella prossima settimana dovrebbero ricominciare tutte le cose che volevo fare con i fanno i moment a gameplay un po più serico in intenzione di completare somma intenzioni completare fall out è completa una parola grossi sono andate avanti con fallout e insomma riprendere con l'idea che avevo proposto nel video precedente in particolare se vi siete persi la nuova suddivisione del canale che di cui ho parlato nel video passato tipo 56 video fa appena prima dell'inizio della serie fallout andatelo a rivedere perché grazie a quel video capirete cosa diventerà il mio canale nei prossimi giorni quindi questo era un breve aggiornamento tutto rimane come al solito se volete potete trovarmi nel ps passate lì e magari un giorno farò anche dei funny moments adesso li sto riorganizzando li farò con tutti voi iscritti quindi spero che siate felici di riprendere a seguire i miei video alla prossima ciao ciao